Pupita vs orsetto amoroso No ti chiudo Trappola Ti ha pure trollato Ti ha pure trollato I saluti vanno per queste persone Come state vinto? Spero come sempre alla grandissima Sono Los Amigos e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi vi porto una reaction A due animazioni molto molto carine So che abbiamo superato i like E vi ho fatto aspettare un giorno in più Ma come ho detto nella live di ieri Che oggi probabilmente non ci sarei stato Volevo lasciarvi un contenuto perciò ieri ho fatto la live Ed oggi vi lascio questo video E comunque se vedo che vi piacciono questi video Sicuramente ve ne porterò degli altri Quindi forza con il pollice in su e condividetelo Con i vostri amici E detto questo io vi lascio al video State tranquilli che tra un po' arriva la Canon Così ritorniamo ad una qualità decente E... Pup! Detto questo direi come sempre di mettervi super super comodi Prendete la vostra Coca Cola Popcorn E un po' di insalata che è un po' che non la prendiamo Ritorniamo in linea E niente come sempre Ora si Let's go Ok amiguitos Partiamo quindi con la prima animazione Questa è stata fatta da Sotmaior10TV Che ho già visto altre animazioni sue È molto bravo E anche molto divertente le sue parodie Perciò vediamo questa Fase 1 Il tuo bianco ti fa conoscere Fortnite Ok Ehi Fredy devi troppo provare il gioco più bello del mondo Stai parlando di Pokémon per il Game Boy? No 2 ore dopo Come Cat Mario? No scherzo sto parlando del grande Fortnite Ok Fase 2 Fortnite Fase 2 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 Mi sta spiegando il gioco Ovviamente io sono fortissimo E io sono fortissimo No Sei il nostro amico junior Il fanatico Io sono a quelli belli Hola Il camper Silenzio Il camper No Il camperone Lo sapevo Ce n'è sempre uno in ogni partita Il camperone non può mai Mai mancare No Esagerato Vabbè sono esagerato Ma non fino a questo punto Salutemi la mia ragazza Anche se Non ne ho mai avuto una Povero Muerto Guarda qui Ti faccio vedere come colpire un bersaglio Il cecchino 8000 km di distanza Io mi ritrovo molto Ok No no Non mi ritrovo più Ecco ti prendo No Povera mucca Il cecchino fallito Ok forse ci entro io Lo scioppone Lo scioppone Junior Lo scioppone Io sono dentro Sono io Sono io E compro anche questo qui Non mi posso fermare Non mi posso fermare Sì Oh no Finiti i soldi Ma ma Compra altri soldi Compra altri soldi Ma dai È un gioco come gli altri Dai Dimmi una cosa Che lo rende il migliore Questo Eh Vuoi ballare Io Non ci giocherò Mai No Figliolo È pronto da mangiare È finito anche lui Figliolo Non vuoi mangiare Ti ho fatto le lasagne Figliolo Le lasagne Mamma A grandi poteri Derivano grande responsabilità Sto combattendo Per la salvezza Per i sani principi Su cui si fonda Il nostro mondo Quelle buone Succulenti lasagne Sono ciò Che il mio palato merita No Ma non quello Di cui hai bisogno ora No Non puoi dire Le lasagne Della mamma E tu Come giochi a Fortnite No Commentando questo video Fatemi sapere anche voi Qua nei commenti Bella Bella parodia Io sono lo scioppone Il cechino fallito E il fanatico Vediamo la prossima parodia Fortnite in 5 minuti Ovviamente Anche questo link Qua sotto in descrizione Vediamo un po' Ok Siamo già sull'isola Welcome to title tower Aspettativa di vita 12 secondi e mezzo E' quelli che si buttano Ma anche meno Io direi Anche meno 12 secondi e mezzo Io sono quello Quello che viene superato da tutti Perché? Perché ti si è aperto Il deltaplano How do you do? Ok Cadono sul tetto Nel edificio No 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 Le spaccate Riuscite a perdonarmi Quello è morto Cosa fa in questi casi? Spacchi il tetto Andiamo a fare un bolo Di 300.000 km Ah Rimassono di vita No 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 Ma Quante volte Vi è successo A me è spessissimo Infatti adesso guardo Tutti I posti Quando entro Guardo il soffitto Guardo per terra Non mi faccio più fregare Dalle trappole Ma mi succede O mi succedeva Molto molto spesso Andiamo avanti Questo sta spaccando Cammincino Bugato da 100.000 punti vita Di ora cosa sta facendo? Ah ok Senti il baule Ma non lo trova Questo mi succedeva all'inizio Sopra Sopra Eccolo lì No Ha rotto il baule Però ha trovato qualcuno What? Lorsetta Tavoroso Pazzo E vola via Col razzo Fatto che la rigida Questo continua Così Tre giorni dopo Ok Un normale Fight Tutti saltando Mo Ah vanno di piccore così Ale Andiamo qua Il tipo co-camper Ah no Ne ho visto uno Contro la casa Trappola C4 Si Può funzionare Piano perfetto Piano perfetto Occhio 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 Eh Amico Ci sono le finestre E anche le scale Si può costruire Muerto Cosa ci fa? Cosa ci fa il cavaliere nero? No il pazzoide Gli ha attaccato Gli ha attaccato C4 Tu lo sento lì Completamente pazzo Io ve lo dico Questa ancora lì Ok l'ha distrutto Ma perdisci di metà Non riesce a nascondersi questa Li distruggono tutto E vabbè Vai No Brutta idea Bruttissima idea Bruttissima idea Va che ti tira giù la scala Non sei a salvo lì No No Vabbè Almeno sei morto Dai Non soffri più L'orsetto amoroso Pazzo di nuovo Calma È pazzo Te l'ho detto che è pazzo Mi spiace Vuoi fregare quanto vuoi Ma non puoi salvarti Adios Non si può ballare Se non si può ballare Vedi il karma Il push C'è sempre C'è sempre il cespuglio Andiamo questa Ok È un ninja questo Ah perché deve prendere l'eye drop Il cespuglio di nuovo No Oh Ti ha salvato Cespuglio c'è sempre Vediamo Sta facendo una torre Mi sa che è in safe Ha conquistato La safe Oh ne ci sono Siete i massi in 10 Top 10 Vediamo un po' No l'orsetto amoroso passo Gira a te 9 persone Uh Attenzione Michael Jordan We brought James 8 rimasti No Io sono questo Sono sempre Fuori dalla safe Sempre 7 rimasti Questo è il cielo Costruisciti Costruisciti Sei rimasti No Questo è successo L'altra volta in live Mi sono ucciso da solo Con un razzo L'ho sento pazzo 4 rimasti 3 rimasti 2 rimasti Cupido vs Orsetto amoroso No ti chiudo Trappola Ti ha pure trollato Ti ha pure trollato Adios Finisce così Molto bravo In effetti Hai rassunto tutto quello che succede Le cose che vi succedono più spesso In 5 minuti Molto bella questa animazione Ricordatevi che vi lascio il link delle due animazioni Qui sotto in descrizione E niente ragazzi Io spero che vi siate divertiti con questo video Fatemi sapere se volete altre reaction Lasciando il vostro pollicione in su E linkatemi magari Qualche parodia che posso vedere E niente a questo punto Io vi saluto Noi ci vediamo la prossima volta Nel prossimo video E mi raccomando Seguitemi su Instagram Perché è molto molto importante Vi tengo aggiornate Anche su quando faccio i live Quindi link qua sotto in descrizione Andate subito Adesso E Ora si vi saluto Alla prossima volta Per il mio tributario Ci via ragazzi Ciao 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 Ciao